Sì, buonasera a tutti intanto, a tutti i partecipanti, è venerdì sera ma vi dico di tenere duro tra un po' prima di iniziare ad uscire dall'ufficio. Allora in questi 20 minuti, come anticipava Lara, vi parlo un po' di quelle che sono le prestazioni dei nostri prodotti, che sono dei prodotti dedicati all'involucro, quindi tutta la parte opaca che si separa dall'esterno, appunto perché il tema di oggi è quello degli edifici Enzeb. Doveroso l'introduzione dell'azienda, Biuset è un'azienda italiana, io vi sto parlando dalla sede tecnico-commerciale di Padova, è un'azienda che si avvale diversi siti produttivi per la produzione di EPS, puristire a un espanso sintetizzato, quindi realizziamo dei manufatti, dei prodotti, dei cassari per pareti, dei cassari per solai, abbiamo una linea dedicata di isolamento a cappotto, la bio-KP, non solamente l'astri isolanti, quindi un ciclo completo, il concetto di kit, quindi rasanti, reti, accessori, tasselli, rivestimenti e quant'altro, perché è un sistema certificato Ethics, abbiamo una linea trasversale di prodotti in gesso fibrato per contropareti e divisori interni, anche se il nostro core business, diciamo, è la diffusione del sistema, come anticipava Lara, sistemi SAD, con i quali realizziamo edifici di qualsiasi forma, di qualsiasi destinazione d'uso, quindi da residenziale unifamiliare, al condominiale, agli edifici popolari, diciamo, di RP, edifici per il settore del terziario, commercio e quant'altro, fino alle scuole, asili e così via, che ci permettono non solamente alte prestazioni di performance energetiche, ma non solamente, quindi anche performance antisismiche, che comunque garantiscono un certo comfort interno e di benessere acustico, che abbinata a degli altri prodotti interni all'azienda, permettono di raggiungere quelle che oggi sono molto, diciamo, così spinte sul mercato, prestazioni al fuoco, come l'ariazione o la resistenza al fuoco. Quindi, Lara, dopo questa breve introduzione, io sono anche pronto, eventualmente, a iniziare la presentazione dai solai, come dicevi te. Adesso Marco ti condividerà lo schermo e infatti andiamo ad approfondire il primo di due argomenti, in particolar modo all'interno del sistema costruttivo SAD andiamo a vedere in pratica i termosolai e andiamo a capire quali sono le loro caratteristiche principali innanzitutto. Sì, allora, per sistemi SAD, innanzitutto, si identificano i sistemi che nascono per realizzare pareti in calcestruzzo armato attraverso una cassaforma isolante, nel nostro caso a piccoli elementi, all'interno della quale viene gettato il calcestruzzo in opera e all'interno della quale viene posata tutta una serie di armature, quindi di barri orizzontali e verticali, opportunamente disposte all'interno della cassaforma, tali a darle un orientamento distribuito, cosiddetto diffuso all'interno della cassaforma, quindi ecco da dove nasce il termine sistema di armatura diffusa. Bioisoterm al contempo ha tutta una serie, anche una gamma completa per quanto riguarda gli orizzontamenti, che possono essere di fondazione, di interpiano, di copertura, fatti con il medesimo sistema, quindi attraverso delle casseforme totalmente isolanti. In questi sistemi Bioisoterm vanta un'esperienza con più di 35 anni di attività, quindi siamo un po' il leader del mercato per quanto riguarda questi sistemi, sia per pareti che per solai. Inizio a preferire iniziare dai solai e non solamente dalle pareti, in quanto sono dei sistemi che si addaigono a qualsiasi sistema costruttivo, non solamente ai sistemi SAD, quindi che si possono adattare benissimo per qualsiasi carpenteria che prevede una cordolatura in calcestruzzo armato. Quindi sia una cordolatura per i sistemi SAD, quindi pareti in calcestruzzo armato, piene, uniformi, sia per sistemi a telaio oppure anche in muratura portante, quindi molto utilizzati nel caso di strutturazione, anche nel caso di strutture in telaiate con profili metallici ed eventualmente anche su carpenterie di piano che prevedono delle travi tralicciate in acciaio. Cosa sono? Sono dei manufatti completamente in materiale isolante. Sono opportunamente sagomati per l'incovo del travetto che risulta isolato da un fondello di spessore variabile dai 4 fino agli 8 cm. All'interno del travetto arriva la colata di calcestruzzo, una cappa collaborante, otteniamo quello che è definito un solaio a travetti calcestruzzo armato. Questa pannellatura è fatta in pulisterio in espanso sinterizzato e garantisce una conduttività termica dichiarata pari a 0035 Watt metro Kelvin. Vediamo subito qual è il processo in opera. I pannelli vengono consegnati a misura a seconda del campo di solaio da completare e dell'altezza opportuna in base alla luce di calcolo e ai carichi di esercizio. Vengono posati in un impalcato provvisorio opportunamente banchinato dalle banchine sottostanti dopodiché si procede all'inserimento delle armature correnti superiori e inferiori retta rettosaldata e si procede al getto del calcestruzzo come un solaio di tipo tradizionale quindi con le stesse accortezze. Alla fine, una volta maturato il calcestruzzo, si procede al pacchetto di massetti superiori ed eventualmente alla presidisposizione di finiture a secco nella parte bassa. Allora, in questo caso vi ho portato, visto che si parla di edifici Enzeb, alcuni esempi, quindi da un piano piloti per esempio. Ho non fatto nient'altro che sostituire al nostro solaio un pacchetto superiore che solitamente i progettisti inseriscono all'interno dei loro capitolati. Sono andato a inserire un solaio che frequente uso, quindi una luce fino a 6 metri, quindi il classico 20 più 5, travetto da 25 di capo collaborante, e questi sono i risultati di output che ho ottenuto per quanto riguarda la cosiddetta legge 10, quindi anche il comportamento termicrometrico. Come possiamo vedere, ho trasmittanze del pannello molto basse che partono dagli 0,30 fino ai 0,16 Watt metro 4 Kelvin. Questo cosa significa? Che un isolamento integrato già a partire dalla struttura mi permette di evitare un eventuale isolamento posto nel pacchetto superiore. Eventualmente, sulla necessità di isolare ulteriormente, posso agire direttamente alzando il fondello del materiale isolante e quindi ottenendo delle trasmittanze termiche ancora inferiori. Questa combinazione di effetti mi fa in modo di avere un minore ingombro del solaio, e questo è particolarmente comodo nel caso di strutturazioni, quando mi trovo a eliminare un vecchio solaio, solitamente di spessori sottili, ed ovviare a quelle che sono le esigenze che invece adesso le normative mi impongono, quindi con spessori, con solai con spessore maggiore. Queste sono le trasmittanze che ottengono con un solaio semplicissimo e questi sono i requisiti che mi chiede la legge, quindi nel caso dei requisiti minimi del nuovo edificato, oppure decreto di efficienza energetica nel caso dell'anno scorso, di due anni fa, diciamo 2020, per quanto riguarda il sisma bonus, vediamo che siamo nettamente inferiori a quelli che sono i criteri, il limite superiore imposto dalla normativa. Dai solai impalcato di piloti, quindi ambiente freddo sottostante, come possono essere garage, un passaggio vuoto, le cantine, passiamo ai solai di copertura. In questo caso ho riportato anche un particolare costruttivo, non fate caso che l'opposto, come se fosse su una parete SAD, in questo caso potrebbe essere anche l'appoggio di un solaio con il cappotto, poi è anche una struttura interlaiata oppure un qualsiasi altro tipo di profilo. Anche in questo caso ho fatto la sostituzione del nostro solaio in un pacchetto che solitamente si prevede in un solaio a calpestio superiore, tipo una terrazza, e questi sono ancora i dati di output. Anche in questo caso una verifica immediata di quelli che sono i limiti di trasmittanza superiore che mi dice la normativa, e vediamo che in questo caso molto facilmente vengono abbattuti, quindi molto facilmente rimaniamo sotto a quello che è il limite di legge. Si tratta comunque di un solaio in calcestruzzo armato, quindi sia in tutti i casi, quello di prima che anche questo, rispettiamo quelle che sono le sfasamenti e quindi il solaio comunque una certa massa intrinseca dovuta alla colata di calcestruzzo. Anche in questo caso vi ho fatto vedere come correggere il nodo in corrispondenza di un attacco che può essere un cornicione gettato in opera dell'ultimo solaio attraverso dei componenti che sono delle lastre sottotrave, opportunamente sagomate a contatto con il calcestruzzo, con un profilo a coda di rondine in modo da rimanere appese una volta che il calcestruzzo è indurito. Si possono realizzare cornicioni, solai a sbalzo, terrazzini, tutti gli aggetti del nostro fabbricato con i nostri casseri? Sicuramente sì. Vi ho portato due esempi molto pratici, quindi una facciata di gronda, diciamo un cornicione secondo l'ordittura di falda e un altro orditto nella parte opposta, giusto per farvi vedere come correggiamo semplicemente il ponte termico in corrispondenza di questi nodi costruttivi, semplicemente con i nostri elementi. Perché utilizzare il termosolaio? Innanzitutto per la leggerezza del pannello. Questo è un pannello che sarà lungo all'incirca, guardando la struttura dell'ometto, un metro e settanta, un metro e ottanta, facilmente trasportabile da nessuna persona. Ma tenete presente che i pannelli lunghi sei metri possono essere facilmente movimentabili da solamente due persone. Altro vantaggio è la leggerezza del solaio, quindi il nostro alleggerimento, essendo un materiale isolante, non dà peso alla struttura se non il calcestruzzo in secco o mecolata. Quindi abbiamo dei pesi nettamente inferiori rispetto ai solai di tipo tradizionale o prefabbricati di circa 150 kg al metro quadro. I pannelli possono essere accessoriati di elementi che possono portare un'autoportanza fino a due metri. Questo mi permette di diminuire quelle che sono il numero di banchine trasversali a sostegno dello stesso in prima fase, quindi al calpestio e al peso della colata di calcestruzzo, fino a due metri. Quindi il minore numero di puntelli e il minore numero di banchine significa tempi ridotti per quanto riguarda i tempi di cassero e disarmo del solaio. E inoltre all'interno del pannello esistono dei profili AC opportunamente sagomati per l'ancoraggio del cartongesso. Distano un centimetro dal fondo e servono da appoggio per un cartongesso che può essere disposto direttamente in aderenza oppure su struttura, la struttura a sua volta diciamo fissata a questi elementi già incorporati nel pannello che hanno resistenze attorno ai 60 kg al metro quadro. Perché viene utilizzato e preferibile utilizzarlo nel caso di strutturazioni? Con la classica tecnica di quello che viene definito è il cordolo sismico. Quindi se tratta di eliminare il vecchio solaio, demolirlo, fare in modo di far passare un cordolo che chiamiamo cordolo di ancoraggio in affianco alle pareti esistenti che rimarrà fissato attraverso delle opportune tasche di ancoraggio. A me piace fare questo esempio. È come se io avessi il mio solaio che sono la mano, le mie dita sono le varie tasche di ancoraggio e il mio palmo viene appoggiato sia ancora questa struttura esistente attraverso le mie dita. Abbiamo visto che ci dà questo effetto il vantaggio di avere già l'isolamento integrato all'interno della struttura ma non solo. Questa tecnica di intervento mi permette un recupero flessionale di tutto il nuovo impalcato di piano magari precedentemente perso le classiche di formazione di campata. Il collegamento di tutte queste parite attraverso il solaio con le strutture rigide del proprio piano mi assume un comportamento sclattolare di ogni singola stanza del mio edificio fino a tutto l'edificio nella sua complessità ed infine mi contrasta quelli che sono quei cinematismi di ribaltamento locale fuori dal piano tipici degli elementi in muratura. L'unione di questi effetti ha un contributo effettivo per quello che riguarda la scalata diciamo verso le classi più alte di rischio sismico quindi mi permette la tecnica mi permette di ragguagliare quelli che sono le detrazioni a livello di ecobonus e di sismabonus o anche l'integrazione di tutti i due assieme. Se visto che nella bocca di tutti stiamo parlando di super bonus devo rispettare quelli che sono i criteri ambientali minimi quindi vi dico di già abbiamo la nostra linea dedicata del CAM che si chiama termosolaio plus 10 con il quale abbiamo il 10% così come richiesto da normativa di materiale recuperato rinnovabile all'interno del nostro pannello e lo abbiamo ottenuto attraverso un processo che si chiama processo BNB dove parte dell'energia spesa per la produzione di questi pannelli è completamente proveniente da fonti di tipo rinnovabile come biomassa. cosa notate da questa fotografia questo è un rifacimento di tutti i piani di una residenza madre qui siamo a rivolta ad Ada quindi una scuola un convento per suore in questo caso non si è utilizzata la gru in cantiere perché bastava un semplice arganello per far stoccare i pannelli che erano stoccati al piano terra ai vari impalcati di piano dopodiché venivano fatti passare attraverso le loro forometrie maggiori finestrature porte e finestre e stoccati provvisoriamente in impalcati appena apposati o eventualmente in impalcati che avevano già raggiunto un certo grado di maturazione del calcestruzzo questo perché i cantieri di questo tipo non viene come nel nuovo costruito edificati per piano ma esiste tutta una serie di cronoprogramma di lavori in modo tale da far funzionare in modo a scacchiera le varie parti dell'edificio in modo tale da evitare quelle che sono le snellezze di piano in modo tale che non sia scartocci su se stesso quindi questa dinamicità di movimentazione ha permesso di un cantiere molto dinamico molto veloce nella sua riuscita quindi tempi ridotti per l'impresa abbiamo visto solidi di piloti abbiamo visto solidi di copertura fondamentale in edificio in ZEB è l'attacco in fondazione è possibile attraverso una cordolatura solitamente fatta con tre virovesce dove è stato previsto questa tipologia di fondazione andare a realizzare un piano rigido già isolato a livello di piano fondazione attraverso questo ne ho portato questo esempio quindi si tratta di far appoggiare in alcuni casi direttamente il solaio nel primo battolo di fondazione e gettare assieme la seconda parte il collo di fondazione con il solaio dopodiché procedere con la parete è possibile innalzare il collo di fondazione e creare anche quella che è una ventilazione aerata all'interno della cavità così ottenuta ho in questo modo un solaio completamente isolato ho ridotto o meglio come dice la normativa corretto il ponte termico in corrispondenza di questo nodo costruttivo ed eventualmente ho la possibilità di una fondazione aerata un particolare molto caro quello che il protocollo casa clima è questa sorta di particolare dove abbiamo in abbinata il sistema SAD per realizzare i colli di fondazione che mi permettono quindi la ventilazione della camera d'aria qui vedete i vari connettori di quella che è la ventilazione forzata dopodiché vanno verso l'alto quindi per effetto cammino questa camera è sempre ventilata e in questo modo ho corretto pienamente il ponte termico in corrispondenza dell'attacco e ho anche la possibilità di far appoggiare direttamente il mio solaio in questo primo strato isolante che mi funge quindi il cassero mi funge anche da puntello in testa e in coda del mio pannello quindi ho solamente la necessità di puntellare con un banchinaggio a perdere solamente nella parte centrale del mio solaio banchine che come abbiamo visto precedentemente possono essere fatti direttamente con blocchi posati sul magrone oppure con delle tavole di legname che non verrà più riutilizzato perché è proprio a perdere a rimanere all'interno della cavità molto utilizzato anche edifici multipiano perché il vantaggio che vi ho detto prima è della leggerezza del peso proprio quindi questo mi permette di snellire quelle che sono tutte le armature a livello di ogni piano di snellire quelli che sono i carichi in fondazione e anche tutte le masse diciamo sismiche che incidono ad ogni piano quindi noi abbiamo che tutte le forze sismiche questo è un effetto tipo lineare che incidono il mio impalcato sono ridotte per effetto del peso proprio di ogni impalcato di piano e questo mi permette di avere degli spostamenti minori quindi un comportamento antisismico migliore di tutta la struttura finale vi ho portato questa nostra esperienza giusto perché di dire perché l'abbinata di un sistema termosolaio quindi un sistema a casselini ps leggero come il nostro può essere molto d'aiuto ad un sistema eventualmente previsto con una carpentieria di tipo metallico e ancora più spinta quando la prefabbricazione prevede le tarvi metalliche che sono anche autoportanti questo è un edificio di 11 piani 3 piani interrati 8 piani fuori terra con tutte le sue caratteristiche vedete una forma curvilina la piscina all'ultimo piano l'idea di mettere in monta i pannelli termosolaio di 5 cm sul piatto inferiore della piatta banda della trave in acciaio ha permesso in questo modo che la trave è autoportante per se stessa e anche parte del carico in prima fase della pannellatura nonché mi ha risparmiato tutto il banchinaggio sia in testa che in coda al pannello e quindi le banchine a rimanere erano solamente nelle parti centrali come in questo caso quindi avevo tutta la serie di travi metalliche autoportanti e un banchinaggio ogni 2 metri solamente nelle parti incampata e questo è particolare che vi dicevo quindi l'appoggio in corrispondenza del piatta banda inferiore questo ha permesso di ridurre notevolmente quelli che sono i tempi di cantiere quindi veramente qui in 5 mesi abbiamo finito completamente l'edificio questo è un work in progress siamo alle fasi di finitura comunque la parte diciamo di grezzo strutturale è completamente terminata come potete vedere sono andato velocemente ma è da apprezzare come tutti i pannelli vengono consegnati ognuno della misura anche diciamo con una linea rettificata a compensazione di quella curva quindi la spezzata ha fatto in modo di assumere la curvatura dell'edificio i pannelli erano segrati ognuno con una propria sigla e trovava una giusta posizione in questo schema di posa queste linee in realtà sembrano dritte non lo so a voi ma vi dico che erano tutte linee sghembe quindi ogni pannello era diverso da quello successivo questa operazione la facciamo direttamente noi in stabilimento quindi questa produzione forzata di prefabbricazione ha permesso veramente un cantiere che andava via molto velocemente non si aspettavano non si aspettavano nemmeno i tempi di maturazione del calcestruzzo perché il quinto solaio era già preventivamente puntellato degli impalcati sotto utilizzando dei calcestruzzi molto spinti si raggiungevano maturazioni del calcestruzzo in tempi molto brevi quindi ogni 15 giorni avevamo già raggiunto la resistenza meccanica di un calcestruzzo di sufficiente autoportanza a se stessa come può essere finito all'intradosso con i cicli di finitura classici su EPS quindi il classico ciclo rasante rettina rasante intorno a questa enteggiatura finale o eventualmente i nostri pannelli sono accessoriati per essere integrati con delle finiture a secco l'aste in aderenza oppure l'aste su struttura edificio Enzeb significa si involucro altamente performante significa anche un impianto spinto ad ogni modo questo è un impianto di ventilazione meccanica dell'aria che viene fatto passare al di sotto del solaio quindi non solamente cartogesso in aderenza può essere anche su strutture diciamo ispezionabili ecco sono iniziato a partire dai solai quindi ne approfitto allora per procedere con quelle che sono le pareti in modo che avete un involucro completamente completo quindi di fronte ai pannelli cassero per solai abbiamo anche i pannelli cassero e i materiali isolanti per le pareti Danis mi senti ti chiedo di essere molto molto sintetico su questa parte qua perché abbiamo ancora una domanda abbiamo veramente pochi minuti ancora a disposizione solo questo sai va bene vado via molto velocemente ok quindi questo ci permette di realizzare un involucro grezzo completo eventualmente integrato dalle altre linee di produzione che vi ho detto quindi dei divisori interni ed eventualmente dalle finiture del nostro sistema a cappotto per ottenere quello che è un involucro avanzato un involucro di grezzo avanzato la pannellatura l'abbiamo già vista di questa casseforma modularità piccoli elementi che vengono giustamente apposti e a secco tra di loro per ottenere delle pareti in calcistruzzo quali sono i vantaggi sicuramente una struttura sismo resistente quindi altamente resistente al sisma cioè una minore deformabilità dell'edificio mi permette quella che sono la riduzione delle spese post sisma anche di fronte a diciamo eventi sismici frequenti abbiamo già visto che è un involucro altamente isolato con i ponti termici corretti l'abbiamo soluzione per qualsiasi tipo di forometria e qualsiasi tipo di nodo costruttivo dalle fondazioni fino in copertura con soluzioni direttamente applicabili in cantiere il sistema manuale si incastra a secco quindi non servono colle non servono malte e si arriva alla quota di piano semplicemente incastrando gli elementi tra di loro dopodiché si procede al getto infine è un sistema certificato abbiamo tutte le certificazioni è uno dei pochi sistemi costruttivi in possesso dell'ETA quindi che certifica il sistema costruttivo completo e abbiamo le linee dedicate per quanto riguarda i criteri ambientali minimi e lavoriamo solitamente con progettazione BIM quindi progettazione integrata e significa anche progettare tutti gli elementi tra di loro dire all'impresa quanto spende perché quelli sono esattamente materiale che arriva in cantiere al di là di quelle che possono essere le varianti in corso d'opera ecco quindi vi ho fatto vedere tutto quello che riguarda il nuovo costruito per i solai anche l'intervento di ristrutturazione non solamente interventi di questo tipo Enzeb riusciamo a riqualificare anche edifici esistenti con quella che viene definita una tecnica alternativa di sistemi SAD quindi l'applicazione a capotto sismico cosa significa? Significa di fronte ad un edificio esistente creare una cassaforma in aderenza allo stesso opportunamente collegata strutturalmente in fondazione e a cordolo di piano con connettori che possono essere meccanici oppure chimici in modo tale da poter fissare delle pareti di controventamento dedicate in modo tale che l'edificio inizia a sopportare le nuove azioni sismiche purché magari sia un edificio datato di 20-30 anni fa quindi attualizzare un vecchio edificio a quelle che sono le nuove azioni sismiche parliamo di miglioramento parliamo di adeguamento antisismico attraverso una serie di pareti gettate in opera dove l'armatura viene calata in opera questo mi permette quindi un involucro altamente antisismico la soluzione ottimale è quella di rivestire tutto il nostro edificio quindi di creare una seconda pelle una cover che avvolge tutto il mio edificio e che è responsabile di ratenere tutte le azioni sismiche di tipo orizzontale mentre il vecchio edificio continuerà a sopportare le azioni che ha sopportato fino all'altro ieri quindi solamente di tipo gravitazionale è un involucro altamente energetico quindi con un doppio strato di isolamento in EPS Neopor stiamo parlando di conduttività dell'elemento pari a 0031 watt metro kelvin una ridotta invasività molto importante perché riusciamo a lavorare solamente dall'esterno dell'edificio quindi per mettere le attività all'interno dello stesso una facilità di posa dettata dal sistema per come nasce il materiale cam lo abbiamo già visto è possibile accedere alle detrazioni sisma bonus ecco bonus e super bonus e abbiamo la scelta delle finiture con i sistemi integrati queste sono alcune fasi quindi si parte da una fondazione adiacente all'edificio esistente questa è la posa del primo corso si procede percorsi esistono anche di fermoblocchi dedicati di nostra produzione a trattenimento della parete esistente si procede così per tutto il piano come potete vedere in questo caso non hanno utilizzato gli inserti dedicati a copertura della sparetta perché arrivavano già con un elemento monoblocco al riempimento del nuovo foro finestra queste sono alcune fasi ancora di costruzione qui siamo all'inizio del primo corso quindi hanno già finito tutto l'edificio e questa è tutta la seconda pelle anche in questo caso sono un work in progress siamo arrivati alle finiture e non ho fatto in tempo a farvi le fotografie del finito anche la copertura è stata totalmente rifatta quindi è stato creato un nuovo coperchio che si appoggiava direttamente alla nuova parete perimetrale giusto per dare anche un occhio a quelli che sono i costi e dove possiamo trovarli possiamo entrare quindi a detrazione di ecobonus con una porta qua parte del cassero gli aggiungiamo la monodopola qualora mai ci troviamo in zona 4 quindi che non è possibile accedere al sisma bonus in tutte le altre zone 1, 2 e 3 è possibile differenziare addirittura quattro parte del cassero la parte strutturale dedicata al sisma bonus al quale ci vado ad aggiungere il costo del ferro monodopera e calcestruzzo e dall'altra parte quello che è il materiale isolante legarlo a quelle che sono i massimali dell'ecobonus ci trovate nel preziario dei sotto la voce e moratori isolanti con pannelli blocchi cassero dove avete un'indicazione del prezzo oppure non esitate a chiamarci per indicazioni commerciali ultima cosa in attesa di quella che è la regola tecnica verticale per le chiusure d'ambito abbiamo tutta una serie di certificazioni per i vestimenti di facciata che ottemperano a quelle minime richieste dalla quella che è ancora in uso guida tecnica verticale con certificazioni BS2D0 BS1D0 a seconda dello spessore di rivestimento che vogliamo adottare con questo ho finito quindi veramente l'ultimo minuto una carrellata di quello che facciamo enzeb quindi protocollo casa clima edificio energia quasi zero super controllato altri edifici dal design particolare dove è possibile apprezzare quelle che sono le finiture quindi il falso mattone la pietra ricostruita la rasatura colorata e quant'altro un altro cantiere dove dal piano di fondazione abbiamo finito l'edificio apprezzabile anche gli rivestimenti interni e così via fino a ricordarmi che possiamo fare un edificio completo a partire fin dalle fondazioni quindi anche i piani anche le pareti contro terra quindi ad un'esaltazione delle forme che sono quelle per le piscine con questo ho finito questo è l'edificio che parlava prima la Lara e che lo trovate nella loro rivista di Edicom approfitto per ringraziare Edicom che ci ha fatto partecipare a questa iniziativa questa maratona di due giorni sui edifici Enzeb Grazie a tutti